Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete non siamo in montagna, come potete vedere ai miei spalle siamo da un ottico. Perché? Perché in tantissimi in questi anni mi avete chiesto, ma Riccardo come fai a portare gli occhiali da corsa, d'alpinismo, eccetera? Nonostante tu abbia gli occhiali da vista, io gli occhiali da vista, ho un po' miopia, un po' stigmatismo, vabbè. E mi avete sempre chiesto come facevo. Oggi realizziamo un video in collaborazione con Gilbo Highwear, in cui vi faccio vedere che gli occhiali da alpinismo o comunque da ciclismo, running, eccetera, possono avere anche la gradazione. E vi spiego come e soprattutto anche quanto costa. Ma iniziamo col video. Innanzitutto la prima cosa che dovete fare se volete farvi fare un occhiali del genere è quello di recarvi da un ottico. Vi lascio in descrizione il link con tutti gli ottici convenzionati Gilbo, che potete trovare quello più vicino a casa vostra, e potete o recarvi in negozio con la vostra gradazione scritta dal vostro ottico, se avete già fatto una visita, oppure farvi fare una visita. L'unica cosa è che tenete conto che nel servizio che offre Gilbo, la visita non è convenzionata. Nel senso, decide l'ottico se farvela pagare oppure farvela gratuitamente. Non fa parte del servizio che offre Gilbo. Il secondo passo, naturalmente, quando scegliamo un occhiale, è quello di scegliere la montatura. In questo caso mi aiuta Luca di Gilbo. Io volevo optare per un occhiale più da alpinismo, e lui mi ha proposto queste diverse montature. Cosa mi consigli più per, come dicevo, l'alpinismo? L'importante è trovare il fit che hai sul tuo viso, quindi avere un occhiale che vada perfettamente a fittare correttamente. Chiaramente, classico occhiale da spedizione, Monte Everest, da alpinista puro, è l'Explorer. Vediamo un po' come sta. Che però ha un fit particolare, molto grande. Su di te va già molto bene, assolutamente. Se vuoi stare su qualcosa però di più giovanile, magari lo shield è l'occhiale che fa un po' più per te. È un occhiale che puoi usare benissimo in montagna, con le protezioni. Ed è un occhiale che nel momento in cui vuoi usare in città, ti diventa così. Ok, vediamo lo shield. Ma sai che mi piace di più questo shield rispetto che, per me un pochino troppo stondato per i miei gusti. Mi sa che questo shield è quello che... Conta che è una cosa che senti nel momento in cui ti metti, quindi non è un qualcosa che devi usare quello per forza. L'occhiale te lo metti, te lo senti bene, te lo senti leggero, ti senti che ti appoggia tutto perfettamente, al che vuol dire che è il tuo occhiale. Da lì in poi, una volta scelto l'occhiale, vai a selezionare la lente che preferisci. Quindi quello. Ok, dai. Per quanto riguarda la montatura, allora io direi che possiamo restare... Lo shield, assolutamente. Sì, sì. Dopo aver scelto la montatura, come dicevo io ho scelto questa qua, shield, dobbiamo scegliere la lente. E la prima cosa che dobbiamo scegliere, mi dicevi Luca, è se polarizzata o no. Che differenza c'è? Dobbiamo scegliere, esatto. Innanzitutto partire dal concetto, se la voglio, spectrum, quindi in policarbonato, categoria fissa che può essere in categoria 3 o in categoria 4, 3 polarizzata anche, o in reactive, quindi il nostro fotocromatico è garantito a vita, non è una pellicola sulla lente, è tutta la lente direttamente fotocromatica in NXT. Lo garantiamo a vita perché tutto quello che accadrà alla lente nell'arco della sua vita lo porterà a lavorare sempre nella stessa maniera. Sicuramente per te sceglieremo un fotocromatico. Sì, sicuro un 2.4 perché facendo l'altenismo è la migliore. Esatto, in questo caso avremo una lente che va appunto da categoria 2 a categoria 4. La categoria 4 è possibile metterla solo quando la protezione dell'occhio è totale e anche laterale, da ghiacciaio chiaramente. Qui dobbiamo scegliere se averla polarizzata o no. Il polarizzato ti appiattisce molto la visione, ti rilassa molto l'occhio, spesso non ti fa vedere tutti i nostri device, quindi il Garmin piuttosto che possiamo avere al polso. Chiaramente il non polarizzato non ti dà queste problematiche, però ti rilassa meno l'occhio. Questa poi è una cosa molto che senti nel momento in cui ti metti l'occhiale addosso, non è un qualcosa che ti posso dire io cosa devi usare o non usare. Il polarizzato rilassa l'occhio, di contro non ti fa vedere magari la differenza tra il ghiaccio e la neve, le pozzanghere te le nasconde un po' di più, ti appiattisce un po' tutta la visione. Dipende. Quindi abbiamo modo di riprovarle, giusto? Certo, assolutamente. Proviamo, come lente reactive invece quale possiamo scegliere? Abbiamo la 2.4, la 1.3 e probabilmente in futuro ci sarà una big news che per ora non possiamo dire, dobbiamo aspettare settembre. Perché quelle Arctic sono... Le Altiarc, abbiamo anche la lente Altiarc che è la lente minerale, quindi la lente più bella in assoluto che puoi avere. E quella la consigli per? Quella lì è da ghiacciaio pure, una categoria 4 fissa. Ok. Che è questa lente qua, è la lente in vetro, quindi la lente migliore che esista al mondo. Tu conta che a livello di passaggio di luce nell'elemento solido, la lente minerale è la migliore come punteggio, il policarbonato è sempre un attimo punteggio, ma l'NXT, quindi il nostro reactive, ha quasi lo stesso punteggio della lente minerale. Quindi tu qui hai una lente leggera, resistente e con un passaggio di luce fenomenale. Ok, perfetto. Quindi dai, scegliamole, vediamo un po' quale lente mettere su questi shield. Allora, qui hai tutta la possibilità di lenti che ci sono. Quindi hai questa parte qua, che è data però per la parte più bici, trail running, running e così via. Noi invece ci andiamo a concentrare su quello che è l'alta montagna, dove hai una lente 2.4 o una 2.4 polarizzata. Allora, quando facciamo un occhiale RX, chiaramente la lente fa il prezzo dell'occhiale. La lente, in funzione di come vai a sceglierti l'occhiale, se poi lo vuoi monofocale piuttosto che progressivo, quello chiaramente in funzione di quello che l'ottico andrà a decidere, ti varia il prezzo. Se prendi una lente in categoria 3 monofocale, con 299 euro, prezzo pubblico, hai l'occhiale finito, pronto per andare in montagna. Con anche l'RX? Con l'RX, sì sì, io parlo di RX attualmente. Se invece andiamo su, per esempio, un occhiale di questo genere, progressivo, con lente 2.4 polarizzata, quindi il massimo che puoi avere, parliamo di un occhiale che ti va a 745 euro. Prezzo al pubblico. Sì, graduato e tutto. Graduato, un occhiale comunque da vista, quindi un occhiale a tutti gli effetti da utilizzare, da vista. E c'è differenza di prezzo tra le varie lenti che uno va a comprare? No, allora, sì e no. Nel senso che se andiamo sullo Spectron, quando abbiamo una 3 polarizzata o una 4, il prezzo è lo stesso e parliamo di 355 euro al pubblico o 485 il progressivo. Mentre quando andiamo su queste qui, Reactive, il prezzo è pressoché identico. Quindi che noi scegliamo una lente piuttosto che l'altra. Esattamente, sì 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 sì. Quindi io direi che a questo punto facciamo una Shield con lente Reactive polarizzata. E c'è qualcos'altro da decidere? No. Il colore. Il colore. Vabbè sì, il colore. Il colore della montatura. Quindi quello che più ti piace, perché tu qui puoi personalizzarti completamente l'occhiale come vuoi. Nel senso che nel momento in cui hai l'occhiale che ti piace, la lente che ti piace, ti scegli anche il tipo di colorazione che vuoi avere. Se prendevi per esempio invece un occhiale piuttosto che un Reactive, una versione Spectre in categoria fissa, potevi avere anche la scelta tra quattro flash differenti, flash visivi. Quindi che sono il rosso, blu, gold, pink e il verde. Ok, in proprio classico. Sì, 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 esatto. Piuttosto che il nero classico e via. E ti chiedo, una volta che adesso noi andremo a ordinare gli occhiali, quanto ci vuole che arrivano? Arrivano direttamente a casa, lo posso ritirare dall'occhio? Arrivano direttamente dal tuo ottico, quindi dal tuo ottico di fiducia dove andrai a fare il tuo RX. In una settimana, da che l'ottico schiaccia in vivo, hai l'occhiale in mano. Ok, perfetto. A questo punto direi che l'unica cosa che devo fare è aspettare che mi arrivi l'occhiale. Esatto, finire la visita con il nostro superottico e poi aspettare. Va bene, io ringrazio Luca e ragazzi noi ci vediamo tra qualche giorno quando mi arriverà l'occhiale, è finito. Qua ragazzi è passata più o meno una decina di giorni, due settimane da quando ho registrato le precedenti clip. Mi sono arrivati gli occhiali, ho già avuto modo di provarli. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo in confezione. Innanzitutto gli occhiali ci arrivano in questa confezione Joulebeau, macchiata Joulebeau. Molto carina, con un'apertura magnetica. All'interno troviamo innanzitutto l'occhiale che vado a mettere un attimo da parte. Due schedine in cui sono scritte le gradazioni con cui sono state fatte gli occhiali, che magari possono tornare utili in futuro. Una piccola salviettina anti-appannamento. Praticamente questa salviettina serve, garantita fino a 200 user all'incirca, per evitare che si appanni l'occhiale. E poi all'interno troviamo anche della manualistica, in cui sono scritte anche la garanzia e tutto il resto. Una manualistica classica. Molto carina la confezione, perché volendo si può anche andare a richiudere, diventa bassa, nel caso adessimo trasportarla, qualcosa. Però è sempre utile. Vi faccio vedere l'occhiale, perché a me finalmente è arrivato. Come vi dicevo, l'ho anche già provato. Ah beh, l'occhiale ve lo danno con questa custodia, questa custodia che fa anche da panno per pulirlo, l'occhiale, e comunque è ottima per portarlo in giro. Ed eccolo qua. Io alla fine ho scelto un color senape, praticamente è nero davanti e ocra sulle bacchette. Un colore molto bello, mi è piaciuto subito. Per quanto riguarda la parte di gradazione, io l'ho utilizzato, l'ho utilizzato in 5 uscite per il momento, ma molto lunghe. Cioè l'ho tenuto su questo occhiale per 12 ore in una, quindi devo dire che l'ho avuto modo di testare per bene. Per quanto riguarda la funzione Reactive, vi lascio in alto a destra la recensione che ho già fatto su questa tecnologia dell'occhiale Julbo, quindi non sto qua a parlarvene. Per quanto riguarda invece la gradazione, devo dire niente niente male, davvero. All'inizio fa un po' effetto fish eye, perché comunque l'occhiale è un po' stondato, naturalmente per andare a coprire bene l'occhio e tutto il resto. Però devo dire che è fatta veramente veramente bene. Io l'ho utilizzata dopo per tantissime ore, non mi ha dato mal di testa, non mi ha dato fastidi. sono arrivato a fine giornata che non avevo l'occhio che mi dava fastidio, non avevo pressioni sull'occhio, quindi davvero, praticamente come indossare i miei occhiali normalmente. Hanno semplicemente un case diverso, una lente diversa, ma a livello di gradazione sono uguali dentiche, quindi veramente fatto super bene. Ultima cosa che ci tengo a precisarvi è che nel caso voi voleste fare questo tipo di occhiale e per qualche motivo si sbaglia la gradazione, li provate, vedete che vi danno fastidio, capite che c'è qualcosa che non va, potete riportare indietro gli occhiali dall'ottico in cui l'avete preso entro due mesi da quando vi vengono consegnati e l'ottico nel caso vi rifà la visita e guarda se magari è cambiato qualcosa, se magari l'occhiale ha qualche problema. Nel caso in cui la gradazione non fosse giusta e bisognasse rifarla, ve la rifanno senza ulteriori costi. Quindi anche dal punto di vista del servizio, la garanzia, sicuramente, Jules Bo va a offrire un servizio completo vista anche la cifra che andiamo a spendere. Comunque, io questo occhiale l'ho pagato 615 euro. Vale la pena spendere così tanti soldi? Secondo me dipende quanto li utilizzate. Vi dico, io che vado in montagna praticamente quasi tutti i giorni a me ha fatto della differenza perché sennò sarei rimasto senza i miei occhiali ma con un occhiale normale e capivo che alla lunga davvero mi dava problemi. Se siete persone che come me vanno stando in montagna, magari non solo a fare alpinismo, ma fanno anche tante attività sportive all'aperto, eccetera, magari ha senso per non rovinarsi la vista. Cioè, se utilizzate questi occhiali per dieci ore tutti i giorni è come avere un occhiale normale. Quindi ci può stare. E anche a livello di prezzo alla fine non è così alto come sembra perché comunque un occhiale da vista alla fine non si paga sempre sui 350-400 euro. Questo con 200 euro in più si ha una tecnologia completamente diversa, molto più evoluta. Quindi vi dirò, 615 euro sembrano tanti, sembrano tanti, ma se paragonati a un semplice occhiale da vista che comunque ne costa di su 400, alla fine non è così tanto. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se anche voi prenderete in considerazione questo tipo di tecnologia nel caso in cui abbiate il mio stesso problema di occhiali da vista. E nella fine, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo, io ringrazio ArtOttica, Dilissone e Chulbo per averci dato la possibilità di realizzare questo video e come al solito noi ci vediamo al prossimo. Ciao!